Una delle convinzioni più diffuse e più infondate in materia di migranti è che l'Isis o chi per esso infiltri dei terroristi caricandoli sui barconi che regolarmente affondano nel Mediterraneo. È una tesi che evidentemente non ha nessun fondamento, non ha nessuna logica, ma che è molto dura a morire. Una domanda più interessante è invece quella sapere perché l'Italia apparentemente finora non è stata colpita dal terrorismo. Su questo ci sono evidentemente delle tesi di tipo complottistico che dicono perché l'Italia si è messa d'accordo, perché paga e altre ipotesi più o meno fantasiosi di questo tipo. Poi ci sono alcune informazioni fornite dal Ministero degli Esteri e da uomini vicini ai servizi segreti sia italiani che esteri che mettono in evidenza che l'Italia, dopo aver combattuto per anni il terrorismo comunista fascista e il terrorismo di origine fascista e rispettivamente, con metodi analoghi, dove aver affrontato la criminalità organizzata, dispone di una legislazione d'eccezione molto meno garantista di quanto dispongono gli altri paesi europei che le dà delle possibilità di intervento che so che in Francia e persino in Inghilterra si sognano e questa è già un'ipotesi. Poi si dice anche che l'approccio italiano sia molto più pragmatico e nonostante l'impressione il controllo sia estremamente importante e appena qualcuno risulta davvero sospetto viene allontanato dall'Italia senza tanti complimenti, mentre altri paesi hanno invece tendenza a seguirli, a cercare di individuare le reti, i contatti e il sistema sembra funzionare meno bene. Nell'intervento che ha fatto alcune settimane da sono a Lugano il professor Introvigne ha avanzato alcune ipotesi aggiuntive a questo. La prima è che l'Italia non ha permesso lo sviluppo di ghetti islamici, un modo un po' meno politicamente corretto di definire questi quartieri che esistono in Francia ma anche in Inghilterra e parzialmente in Germania ad altissima concentrazione di immigrati di origine musulmana o islamica. E anche laddove ci sono concentrati molti immigrati provengono da regioni, da religioni, da nazioni diverse, il che fa sì che in qualche modo, tanto per cominciare si controllano tra di loro, evitano che emergano delle situazioni dominanti che poi in qualche modo possono essere il brodo di cultura dove sono stati reclutati taluni terroristi in Francia, in Inghilterra e in Belgio. Le altre due sono ancora più particolari. La prima è che l'Italia non ha una tradizione di laicismo giuridico come ha per esempio la Francia e quindi ha affrontato con molto più pragmatismo alcune di quelle in fondo piccole questioni ma che hanno suscitato discussioni e reazioni enormi anche da noi, dal velo alla questione delle piscine, alla questione della carne, sono state affrontate con un certo pragmatismo evitando di trasformarle in motivo di scontro, in motivo per i musulmani di sentirsi discriminati e questo sicuramente aiuta nel non spingere la gente verso i foreign fighters o comunque verso l'estremismo. Terzo elemento che sembra essere secondo i Trovini e proprio più specifico all'Italia è la presenza della Chiesa Cattolica che lungi dal essere un elemento di scontro e di conflitto si è rivelata un elemento di dialogo perché la Chiesa magari senza grandi proclami ha sempre mantenuto aperta una porta di dialogo con l'Islam cercando di costruire dei ponti, delle occasioni di incontro che hanno certamente favorito un processo di integrazione più riuscito di quanto avvenuto in Francia o di quanto avvenuto in Inghilterra. Tutto quanto abbiamo detto oggi non spiega del tutto il perché l'Italia finora non sia stata colpita nonostante apparentemente se facciamo riferimento alla propaganda dell'Isis e di Al-Qaeda sarebbe in realtà un bersaglio principale, la conquista di Roma e tutte queste cose che i testi di propaganda ripetono ma che non sembrano in realtà essere davvero un obiettivo. E' un obiettivo. E' un obiettivo. E' un obiettivo. Grazie.